benvenuti a questa nuova puntata delle pillole del prof anche questa volta torneremo a venezia per spiegare un vocabolo molto usato nel dialetto bresciano babao vocabolo ambivalente tra amici ma te se proprio son babao si è proprio uno sciocco la nonna o la zia quando ancora si usava rimproverare nipoti riera al babao cioè l'uomo nero quello che una volta si chiamava l'uomo nero che rapporti hanno come mai questo vocabolo ha due significati così diversi tra parentesi uomo nero delle tradizioni popolari italiane non c'entra niente con le persone di colore lo dico perché stiamo giustamente in un'epoca della grande sensibilità ma l'uomo nero delle nostre nonne era qualcosa di molto più ancestrale la persona il fantasma l'uomo che arrivava dal buio nell'antichità non c'era tutta la luce che avevamo al giorno d'oggi e quindi il buio era il regno delle paure il razzismo questa mala pianta è un frutto molto più recente storicamente parlando è nato non a livello popolare ma di questo avremo modo di parlare basterebbe citare il famoso moro di venezia di shakespeariana memoria ma torniamo a noi il babao babao come mostro per far paura ai bambini arriverebbe addirittura indietro alle eredità celtiche è diffuso in varie culture europee nella cultura inglese nella cultura del sud della francia ma da dove deriverebbe una voce anomatopeica il latrare del cane ad esempio ma una spiegazione che metterebbe insieme il babao come sciocco e il babao come mostro da evocare a mio parere è un'ipotesi per questa spiegazione bisogna tornare a venezia a venezia c'erano i babai sì ed erano tre ma chi erano questi babai in grado di scatenare emozioni e significati così differenti i tre babai erano tre magistrati della serenissima repubblica molto severi quando arrivavano con la toga nera uno di con la toga rossa erano guai perché arrivavano per indagare e non guardavano in faccia a nessuno quindi il babao sicuramente questo essere ancestrale cioè che va a frugare nelle nostre paure più primitive ma per quanto riguarda il bresciano stiamo parlando di un'ipotesi potrebbe essere un ricordo di questi magistrati veneti brescia è stata veneta per quattro secoli e quando arrivavano c'era veramente ad aver paura e questo spiegherebbe sia da una parte l'evocazione come mostri stai buono se non arriva a prenderti tizio caio ma anche il significato di babao come sciocco perché noi in italia in particolare abbiamo con l'autorità sempre questo rapporto un po' ambivalente e ad esempio non a caso ne parlavo appunto con un amico maresciallo dei carabinieri il fiorire di barzellette sui carabinieri ha una spiegazione proprio antropologica legata alla società italiana c'è questo prendersi gioco in maniera irriverente ma simbolica con una barzelletta del potere che attira e allontana allo stesso tempo in particolare un popolo che ricordiamo come noi italiani è tanto tanto figlio di pulcinella e di arlecchino detto questo avete visto quanto siamo andati lontano che questa volta con un termine della nostra infanzia ringraziamo tutti gli iscritti che sempre più numerosi si iscrivono al nostro canale un canale vero per persone vere e vi ringraziamo anche delle tante mail che ci mandate dei tanti suggerimenti detto questo ci rivediamo settimana prossima e vi ricordo come sempre che la nostra tradizione ne siete voi ogni giorno